Grazie a tutti EWTN, sharing the splendor of truth This is EWTN's coverage of the candlelight vigil And mass from Fatima This is coming from the little chapel or Cappellina Where the apparitions occurred in 1917 Between the months of May and October I greet you, Mary, full of grace The Lord is over and over again Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes e Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni. Io vi saluto, Maria, pleine di grâcia. Le Seigneur è con voi. Voi siete benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni. Io vi saluto, Maria, pleine di grâcia. Le Seigneur è con voi. Voi siete benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni. Io vi saluto, Maria, pleine di grâcia. Voi siete benigni tra tutte le donne. Io vi saluto, Maria, pleine di grâcia. Le Seigneur è con voi. Voi siete benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni. Io vi saluto, Maria, pleine di grâcia. Voi siete benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni tra tutte le donne. E Gesù, il fruttore dei vostri entrai, è benigni tra tutte le donne.